Sono stati 235 comuni alluvionati, abbiamo avuto 10.040 famiglie e imprese sott'acqua ed è stata anche un'esperienza umana, unica e poi organizzativa e anche la mia prima esperienza di protezione civile vera. Abbiamo affrontato questa sfida assolutamente con Piglio e ho avuto il mio primo ruolo commissariale e abbiamo portato anche il federalismo in protezione civile in una tragedia. Abbiamo inaugurato questo corso che adesso sembra ufficiale per tutti ma allora non era così, i soldi arrivavano dallo Stato, restavano in regione e poi le regioni ogni tanto liquidavano delle pratiche, ma 10.040 pratiche. Invece io ho adottato subito dal commissario il modello di vi anticipiamo, già vi diamo subito un anticipo, ma diamo i soldi ai vostri comuni che vi conoscono e quindi vi accompagnano, tanto è vero che se voi osservate nessuno dice di avere ancora crediti rispetto all'alluvione 2010. Abbiamo liquidato tutti per una montata del 75% dei danni come previsto per legge. Grazie ai volontari, ai tanti volontari che si sono mossi, quelli diciamo organizzati, protezione civile per prima, vigile del fuoco, tutte le associazioni di volontariato e poi ai cittadini, è stata veramente una chiamata di popolo. Da lì però si è ripartiti, e questo ricorda spesso anche il professor Dal Paos, una nuova stagione delle opere idrauliche. Io avevo ereditato una situazione in cui non si realizzavano più grandi opere da 80 anni.